Eccoci a Inter Sampdoria, Francis compare tra i marcatori nel campionato italiano, avvia l'azione splendidamente con questa lunga discesa, scambia rapidamente con Mancini, riceve la palla di ritorno, batte rasoterra a Bordone. 1-0 per la Sampdoria all'undicesimo minuto. Il pareggio, dopo la risultanza di Francis, il pareggio è di Müller, specialista nei calci di punizione. Come a Verona, tocco e gol di Müller, 1 pari. Nella ripresa, mentre qui è il momento di Hansi Müller di essere felice, è il gol di Mancini che decide la partita. Splendido, con girata al volo, ma era completamente smarcato.